Musica Bene, un cordiale buonasera da parte di Alfredo Nidio a Le Gregoro. La gioia a notte è sempre puntuale, mi vai a piegare sempre, la televisione di Tatra e il TG, una bella televisione, sinceramente lo devo dare. A dirbiti questa sigla che mi ha venito anche a questa remissione, sul sorballo saldo di Alfredo Nidio, che hanno l'appo, battizzata, l'appo, battizzata, a Le Gregoro. Salutele a tutti, a mannoso e minore, scomentano le capite, bidenzo, le salutele a tutti. Però posso dare un'altra notizia, è stasera bellissima, la televisione di Tatra, il telegiornale, tutto quanto su cui succede. Sa che la barca la salda è sempre presente, una cosa bellissima. Fai piegare sempre di abbaidare la televisione. Però se vado a far migliorare il foro, in usia chiesiana, non vado a tutti, sono uno in tre, però dobbiamo fare www.telegi.tv. Se vado a fare parentesi in foro, non mi sono in diretta, Alfredo Nidio, a Le Gregoro, la televisione di Tatra, una bella televisione, devo saluto a tutti, a mannoso e a minore. So che chi sono fuori da questa Sardinia, in estero, in usia chiesiana, capite? Le ha poi girato sul circolo, sinceramente, e mi fai piegare sempre. Poi lo telefonare, siamo in diretta. Come te non ben dite, in Tattari, in questa zona, fino a se non arrivi questa televisione, però siamo in diretta. E potete telefonare pure. Da ogni gioia a capo, poeta, cantatore, tenore, costume, uno perché tutto, e sa poesia. Casino, beh, sa poesia, no, bannuda. Un preso, ma di nini, tutto, da sa poesia. Uno caro saluto a tutti, a mannoso e a minore, da parte di Alfredo Nidio, a Le Gregoro. Annamora per presentare questo ospite, in stasera, come un poeta bravissimo, sinceramente, Alfredo Nidio conosco una vista, una vita. C'è qualche volta che ha fatto qualche vabbara, per vedere cosa è pure. Che non è nascita, nessuno ha imparato. E nessuno, non ha più sbagliato. Su primo che sbagliassi stu. Buon anno, già in partenza, capite, evidente. Non ha più sbagliato questa cosa. Casino, non ha più sbagliato. Ma sbagliamo tutto. Chi non ha sbagliato, non ha nascita ancora. Su poeta e capite, stasera, è Salvatore, Pinna. Come ti sta, Salvatore? Bene, 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 grazie a Dio, su. Una cosa bella, veramente. Siamo resistenti. Resistenti, e dobbiamo resistere. Procura sarda, sia procura poesia, sia da procura salute, sia procura sarda. Questo mandano, a papi di uno o d'altro, che ti ho detto sempre. Non ha ne lo fai dare, questa limba nostra. Ma questa è una limba. Non è questo un dialetto. È una limba. Ma adesso a comprendere che siamo, è quello che è vero, dice. Eh, bene questo. Ti non ha reso che il gai. E non ti sono zena, non lo fai dare. Però a comprendere, da che ti dà una cosa, mi comprende. È parlato piano, sì. Eh, non so cosa rende. Non ha reso, piano piano, mi deve scomprendere. Che questo è una limba. Vero Salvatore? È giusto. Eh. Devo, già mi scolgare qualche cosa, perché mi sono impegnato dai più debbini di canno. È a lui del video. Quindi. È una vita che ho fatto, sa corto la sarda, è sempre, o poesia, o canto sardo, o tenore, scorro, sui costumi, se uno mi ha fatto le suonette diattoni, questo è ballozzato. Questo è quello che fa nascere, ho visto una cosa bella, che non si è a suonare le suonette diattoni, come io, su chi mi ha fatto la lingua, non dirsi. È due a dire. Eh, due a dire. E chi è andato in onda? Fia adesso, Marta Francesca Bande di Bortè, un amico mio carissimo, che non si è lasciato, e Comparamonto Vercellino di Burgos, che è sicuro non si è lasciato. E fino a farlo con Comparamonto, devi stare sempre in giro, però non è una macchina, cambia questa cosa, da questa fessa armonica, al suonette diattoni. Certo. E' una cosa che mi ha fatto, questa prima poesia, è terminata. E' l'ucreo, pronto, so. E' tenuto questa prima poesia. Sicuramente tu hai parlato di questa poesia, che è... La prima in classifica. La prima in classifica, questa cosa è importante, è meta. E' beh, sì. Ecco, e tanto, per cominciare, noi la chiamiamo, E lì narro bene poesia. Beh, allora, eh. Si solo mi sento a serentina, e trista mi lea malinconia, A ti e giamo, e coro sareina, promi cantare dulce melodia. Chi sia sottava sottottorina, su cori scaldisi, casè s'poesia. Tu hai rimedio, pronti malatia, e giamba sa tristura in allegria. E te questa voce misteriosa, che vaga sa natura apprezzare? Non è niente con te, con pare rosa, e che hai tutto bivote ne gozare. E spari tristura pura tormentosa, e sole allegro torra da brillare. A ti e non resisti, che in cantas, s'addi e s'annuzzata, tutto cantas. Sa portatua, l'universo girata, e forma dei stelto di splendore. Estando, chi sucorre su sole in terra mirata, e mandata a soscoro tanto amore. Babbo e mamas, chi volte reggirano, e fanno che mandano su sfidu dai minores. Gai su mondo nasce dai non, è tutto gusto, è merito tuo. Altra cosa bella mi combinas, è quando vagues due coros amantes. Issos amaudentati incaminano, e bidano horizonte privilantes. C'a poetica frase purpurina rende più amoroso sui istantes. C'è questa poesia armoniosa, che vale più bella, onzi sposa. Ma due chiesi, chieda fatto. S'origine tua è misteriosa. E io credo, che incrusto il creato, non che potevamo ponne mezzo cosa, su creatore, quando incrustato a finito su mondo, a posto rosas, in celeste paradiso, e noi a cantare poesie, scrivete a te. Salvatore, questa poesia non è il macchino, non avevo sempre teo. Qualcuno, però questa poesia è improvvisata, improvvisata in suo momento. La poesia a taurino come ti gusta, la poesia senza rima, la poesia con sa rima, raccontano in ogni maniera. Gai è stessi o no? E giusto è. E' un'altra tia, e un'altra tutta burba, e non cambia la poesia come i piagliati, chi non ti piaga questa è una cosa, però se non per la poesia non fa nulla. Gai è stessi? E' tanto, abituato, come te ne ho rotevo. Cosa cosa è fatta a Gai? C'è l'altro, gioca, da vaga, è nata, non è Gai. La poesia non è la macchina. E teniamo su un altro aservatore. Dedicato a tutto il mondo, l'intrego. Per scattamentare sempre, è intelligente, il bisogno delle tattari, non chiedere, tutto il mondo, l'intrego. Per capire, che sono fuori dalla Sardinia, è bello a pescare, a andare a rimentare il padone, che presentano sia la poesia, il canto sardo, il canto sardo, il coro, il canto sardo, il canto sardo, e il canto sardo, e vi dimentico tanto. Sinceramente, buon saluto a tutti, che chiedete in Sardinia, e che chiedete in tuttua, capite, vi dimentico. Tu ho fatto un frate, non so, in Australia. e qui su TVB, dei ragazzi di Sardinia, su che succede, su delle giornate, capo su delle giornate, dell'intelligenza, tutto quanto, da essa, al saggetto, lo prese ma salva, bene, e teniamo un'altra poesia. qui, se c'è ancora un argomento, di poesia, e praticamente, sto raccomandando, a un amico, che non si preoccupa, per troppo, di dare la mandata, a sapoizzare, a concorso, cioè, della mandare, e di esattare, casomai, in telidana, però, di continuare, naturalmente, a scrivere, e a gozare, di questa poesia, ma tessi. Quindi, è un amico, un amico, un amico, un amico, in vista sereno, se la poesia, non è premiata, l'ha fatta due, ed è buona leno, al suo concorso, che l'ha inviata. Su pare di solo, è stanzeno, e con altri, ti l'ha confrontata. Galu, non siamo, che usano le mani, che ha già, in chito premio, se fanno, il suo concorso, quando è riunita, se la compagnia, è tutto in buon umore, cos'amo questa festa, e questa vita, di stare a fianco, al gusto, su questo onore, che ha del buono sentito, se è sfruita, la mente, e gente di grande valore, a noi, la natura ha dato donos, che nos rende, del suo mondo padronos. Chi è che noi, godi la natura, da esa fresca, da sintetichinata? Chi è mira, di stelle, della bellura, e ammirendo, lo spazio sanottata? Il mondo, che è solo una creatura, che lo grazie, e di os è dotata, sa poesia, però, e se è questo spettacolo, che la natura, è uno miracolo, di questa cosa bella, di questa vita, che noi siamo, se valen che tesoro, non mi importa, se riman agradecida, e se mi donan, di medaglia e oro, è bella, che è sintetica, imprimida, e narra tutto, su chiapso in coro, quando crescimus, già ne sono sicuro, a mandare il supremo, a noi spuro, allegro l'istatando, caro amico, e non ti lees troppa angustia, paciencia appas, che omen antico, la fraverderon, date la via, se pure il mondo, ti pare il nemico, ammenta, che un attimo di poesia, quando è nascita con sincerità, vale, per me, tutto in eternità, salvatore, questa pedaglia, la casanata, è bellissima, è da sinizio, come è sanata, devo dire, un'altra te, capite, hanno a presentare, con questo, sui tuoi rischi, però, mi sono curioso, a me non mi la premia, a me non mi la premia, e soffendono, non è che sono semplice, però tu, questa pedaglia, la casanata, e già, che bisogna s'affianco, assomannare, questa è una cosa ora, ma io la comprendo, per Gai, tu non la comprendi, se vai a prendere, a te, come chiedi tu, un attimo, sempre che appare, su tutti i suoi, e non, ti deve essere, che è, ti deve essere, in spazienza, a Don Nicorsa, e capite, su un cosa, è evidente, il disco, come te sapo sia, sì, sinceramente, da che la mando, su un concorso, non te ne mando, un certo numero puro, poi mi dimentico addirittura, mandatela, boh, e che l'ha mandato, boh, eh, ma per ordinare, ma a te te metà, che non le manda più, su poesia, che non me la premia, eh, e fa che male, e non me ne dimentico, che non lo ha, che la gusto è vero, e tu e li schi, sì, che se mi andate, che non lo so, non te ne dà una paola, no, eh, sì, ma su questo ancora più grave, sì, che va rinforo, non le mandano, e non le faggiene, e non le faggiene, con questa cosa più grave, con questa cosa più grave, con questa cosa tra parte, con questo Deonaro, con la faggione, e con la protezione, non la fai, con questo concorso, esatto, esatto, qui c'è il tuo papà, a San Rione, bene, bene, bravo, Sabattori, chiaramente, debendo tanto, si aprono questa poesia, e si aprono questa cultura salda, ma questo debendo tanto, questa poesia, va la panato sempre, questa è la prima, in classifica, la prima cosa, se tu sei una cantatore, a chi terra, e noi, che sa cantone, sa cantone, non le dà la sua poesia, non le dà la sua altra cosa, a Rione, eh, capito, per questa poesia, te, sono della sua razza, e della sua natia, eh, non sono improvvisatore, però, qualche cosa, l'improvviso pure, eh sì, uno sta a scrivere, uno sta a fai dare, con la sua diretta, e con la poesia, improvvisata, è un'altra cosa, però, è diversa, sono tutte cose belle, ah, bellissime, capite, noi siamo, su appitud, persone, illustrese, per questa poesia, bene, a Rione, no, potrebbe essere, no, ma voi, non erano, su un manno, su un improvvisatore, se si ha, ne scrive pure a taurino, bene, esatto, non si muigliano, ma, ma, gente, non ho fatto il suo nome, baduno, che tu non risponde, se la poesia, e se non ti scrive mai, mette per iscrivere, e non ti non ha, che sono, che lo conoscono, e va bene, ma non so, e minore, però, ma, androni a iscrivere, fino a su una poesia, a ti torna, c'è risposta a te, addirittura, ehi, c'è, a poi, non ho capito, c'è una cosa, e non sono, non sono, sono una vita, che ho fatto la cultura salta, e bischietta cavernale, compreso, però, l'abbiamo, vedendo, che è da tutto, manno e minore, e non le ho tutto, manno e minore, tenore, scoroso, tutto, piano piano, perché nel suo tempo, a ogni cosa, compreso, ma, e, a ragione, bene, salvatore, la prima lappa, l'abbiamo fatta, e mi lo hai piegato sempre, e ancora, saremo, come in zenne, però, di crescita mentale, è una cosa, di crescita mentale, in questo momento, vamo, sui scorsi, sui pubblicitari, a legare, a loro.